Si chiude la quinta edizione della festa di primavera di Floresta. Famiglie e bambini indiscussi protagonisti di ogni evento. Un territorio da scoprire e da vivere per una giornata all'insegna del divertimento e delle tradizioni. Tra storia e cultura, i visitatori hanno potuto apprezzare le interessanti mostre di insetti e di verdure spontanee. L'amministrazione guidata dal sindaco Marzullo da tempo punta sull'alimentazione naturale, quale elemento di distinzione e valorizzazione del territorio. Canto al sindaco ci sono anche commercianti che mi fanno spalla, quindi c'è una sinergia che non si riscontra nelle altre comunità, ma tutto è dovuto alla capacità fattiva di noi amministratori. Quindi quando ci mettiamo avanti, dietro a noi c'è sempre una combagine importante, non soltanto di lavoro manuale, ma bensì anche di inserimento con la partecipazione economica. Questa ne fa la differenza. Infatti negli ultimi sette anni e mezzo Floresta della promozione ha fatto un banto e ha avuto la capacità di quantizzare, soprattutto di creare e dare quelle condizioni di sviluppo economico che è tipico e si vede solo a Floresta. Ormai da diversi anni che si svolge, siamo qui al Museo di Arte Contadina e stiamo visitando le verdure spontanee, verdure che crescono alla nostra altitudine. Il programma all'insegna della natura e della valorizzazione delle ricchezze locali, iniziative, mostre, visite guidate per scoprire gli angoli più affascinanti del territorio, ma anche concerti di violini e degustazione di prodotti tipici, tra cui quelli dell'Orto Comunale Deco. Favoloso, mai visto. È una bella esperienza, bella. Abbiamo visto cose che non avevamo mai visto. La cosa simpatica è avere un sindaco che si fa da Cicerone. È una cosa molto bella. Complimenti a questa amministrazione. Noi veniamo da Favara, siamo a 5 km da Agrigento, ma porteremo con noi un ricordo bello, eccezionale, di questo affetto, di questo calore, per l'accoglienza e anche per i siti che ci stanno facendo scoprire. Grazie.